Conferenza stampa poco divertente, poco stimolante, poco tutto, però comprendo. Non so, infatti io volevo iniziare da questo, cioè, a parte che è stata molto rapida, ma proprio il suo... Come l'avete visto, esatto. Il suo tono, cioè, se ne l'avevo visto molto, non dico indazzato, però... No, ma guarda, ho ricevuto diversi messaggi, c'è chi mi ha chiesto se fosse nervoso il mister. No, a me è chiaro, è una partita alla quale ci si approccia con tutta l'attenzione del caso. Si arriva dalla sconfitta contro lo Stoccarda, che comunque è stata una sconfitta brutta per come è arrivata, al netto del percorso che sta facendo la squadra. E' inevitabile pensare che domani la partita sia molto più complessa contro l'Inter, che, sì, non ha Cialanoglu, ma ha tutti i giocatori d'esperienza che vogliono dimostrare di essere i campioni d'Italia. Quindi domani per la Juve sarà un esame per capire a che punto è questo percorso. Ma tu pensi che Luisa, c'è la sconfitta di martedì, l'abbia sentita? Cioè, finora abbiamo visto comunque tanto entusiasmo, vittorie, gioco, però martedì arriva una sconfitta pesante, comunque con un gioco, cioè una partita brutta. La prima della stagione, comunque. La sofferta, senta. Io credo in questo momento qua nessuno possa far finta di nulla rispetto alle assenze che pesano. Perché se andiamo a vedere i giocatori che domani non saranno a disposizione, come non sono stati a disposizione contro lo Stoccarda, se mettiamo insieme Nico González, Coppemainers e Douglas Luiz, di fatto azzeriamo quasi totalmente il mercato che ha fatto la società l'estate scorsa. Uno, per adeguare la Rosa alle richieste dell'allenatore. Due, per metterla nelle condizioni di velocizzare il suo percorso di crescita rispetto a quei 23 punti di distanza con cui chiusero la stagione l'anno scorso la Juve e l'Inter. Una distanza c'è, è inevitabile dirlo, è inevitabile riconoscerlo. Oggi, ripeto, l'Inter è al terzo o quarto anno del suo ciclo, perché questo momento storico è dentro il ciclo dell'Inter, e la Juve è al terzo o quarto mese di ricostruzione, con tutta una serie di passaggi che devi fare, con una serie di cadute che devi mettere in conto, con una serie di serate entusiasmanti che possono esserci e devono esserci. Credo faccia bene oggi la Juve attraverso Tiago Motta a parlare il meno possibile, a fare meno proclami possibile, semplicemente perché non è il caso di approcciare alla partita di domani come il più tradizionale Inter-Juventus. Secondo me oggi fa bene la Juve a rimanere umile, a pensare a se stessa, a pensare a come migliorare il proprio percorso, più che andare a forzare la mano su una sfida che obiettivamente ti mette di fronte la squadra più forte del campionato insieme al Napoli. E lo ha detto chiaramente Tiago Motta questo in conferenza stampa. Se poi devo farti un riferimento per contestualizzare ulteriormente, ti ripropongo la domanda che ho fatto al mister, cioè domani c'è da una parte la squadra con la media d'età più alta del nostro campionato che è l'Inter e dall'altra la Juve che è la seconda squadra più giovane del nostro campionato dopo il Parma. E credo questo la dica già lunga. Su cosa si può nascondere la grande insidia del derby in Italia? Poi resta Inter-Juve, resta il derby d'Italia, resta un grande mezzo, resta tante cose. Però al netto delle assenze, perché la Juve di assenze ne ha tante che pesano, è quella media d'età con gli assenti si abbassa ulteriormente. Dall'altra parte sì, c'è la Noglu e manca la Serbi, però obiettivamente quelli che giocano sono delle riserve all'altezza che hanno già vinto lo scudetto l'anno scorso con merito, dimostrando di sapere, cioè, se l'Inter toglie a Serbi e mette Pavard, ragazzi, obiettivamente non possiamo raccontarcela. Sì, sì, sì. No, ti sto dicendo, forse oggi ci hanno dato più indicazioni, più spunti effettivamente, le domande che le risposte, perché comunque... Beh, meno male, questo è un grande complimento. Certo, la tua domanda... Dopo anni di insulti ogni tanto, ma scherzo. Allora, la tua domanda ci apre un tema, comunque apre una discussione, perché magari uno non se ne rende conto e dice ah, effettivamente l'Inter è una squadra di tanto più esperienza, mentre la Juve è tanto più giovane. Poi le risposte un po' di Teomot sono state tutte per sorvolare, cioè, brevi, net, senza darci tanto. Anche indicazioni sulla formazione, che sappiamo che è un po' restivo a darci nomi e tutto, però era interessante anche la domanda, per esempio, sulla fascia dell'Inter, la fascia con Bassoni, Di Marco, e lui è aggiunto poi in Big Italian, e come può contrastare quella fascia all'Inter. Cioè, secondo te, lui domani metterà Cambiaso e con Seisavo, che comunque sono due giocatori tanto offensivi, oppure metterà Cambiaso a sinistra e a destra, fra Savona, UEA, e cercherà di coprirsi un po' di più? Cioè, quali sono le tue sensazioni? Io ho la mia idea, però resta in questo momento la mia idea e nelle prossime ore poi lavorerò ovviamente sulla formazione. Secondo me... Secondo me gioca Danilo, terzino destro, e Cambiaso alto. Alto a destro? Sì. Quindi con Seisavo o Panchino? Con Seisavo, secondo me, domani questa è la vera carta da spendere a partita in corso. E il Dizio tu dove la metti adesso? A sinistra regolarmente. E non dietro a Vlavic come sembrava facesse trasparire, cioè sembrava aver fatto trasparire come Verona, che volesse metterlo alle spalle a Vlavic. Ma sapete, secondo me questa roba della posizione lascia il tempo che trova, perché quando ti addentri nella filosofia di Tiago Motta, il gioco può davvero portarti ad occupare qualsiasi posizione. Quindi se la disegniamo 4-1-4-1, il Dizio gioca a sinistra. Poi è chiaro che magari potrebbe ritrovarsi ad accentrarsi, forse glielo richiede anche l'allenatore, ma non la vedo questa... Ma a livello di modulo abbiamo il 4-1-4-1, con l'assenza di Douglas Lewis, con l'assenza di Coop, eccetera. Mette di nuovo McKennie, magari lì... Io credo di sì, io credo il ballottaggio sia tra Locatelli e Turam, ma credo possa rimanere fuori Turam all'inizio, poi è una partita in cui i cambi saranno importanti. Però, ripeto, sono tutte le sensazioni che per adesso ti sto dando. Sì, sì. Davvero, non lo so. Credo in Porta giocherà regolarmente di Gregorio. Io mi aspetto ancora Cabal a sinistra. Mi aspetto rientro di Gatti in difesa. Non lo so, ci sono delle cose... Ma Gatti è tutto a posto? Cioè, Gatti è tutto ok? Perché con lo Stoccardo ha neanche un minuto, anche... No, no, ma Gatti sta bene. La riposta. È una scelta tecnica. Ok, ok. No, vabbè. Cioè, quando rimani in 10 comunque e mette lui invece di Gatti... C'è una spiegazione. Lui mette lui perché finalmente per i tifosi che chiedevano di attaccare sempre. O come volete. E lui, contro lo Stoccarda, non pensa a difendere. Lui pensa a organizzare una ripartenza sulla fascia sinistra e chi meglio di Rui poteva dargli quella soluzione lì. Poi prendi gol e perdi la partita. Però, nell'idea della sostituzione metti Rui e non Gatti perché non vuoi difenderti ma pensi ad attaccare. E in quel momento lì per questo tipo di idea Rui poteva farti partire una ripartenza sulla sinistra a differenza di Gatti che avrebbe difeso dentro l'area e magari meglio sicuramente poteva esserci un uomo in più dentro l'area contro lo Stoccarda nell'occasione del gol. Però, se riportiamo all'idea di provare a vincere fino all'ultimo Rui è andato in campo contro lo Stoccarda per quel motivo lì. Sì, no, stavo pensando anche a Bangulà che si entra pure poco in corso. Cioè, anche a Bangulà se vuoi vincere la partita sulla fascia magari metti lui c'ha pure ti salta l'uomo. Però, ragazzi bisognerebbe vivere tutti gli allenamenti. No, sì, è chiaro. No, certo quello assolutamente. Perché poi magari noi ci basiamo su quello che sappiamo magari possiamo pensare non avendo la certezza sotto e sono un po' campate per aria le nostre idee. Magari un giocatore in allenamento non ti dà il 100% ed è difficile che poi veda il campo. Quindi ci sta. Male se un giovane come Bangulà dopo le opportunità che ha avuto magari non ti dà il 100%. Quindi boh. Però adesso senza portarla troppo a per le lunghe questa cosa. Dici che si viziano magari. Le indiscrezioni sono queste. Le indiscrezioni sono... No, anche quello che ci dice lui ci fa capire lui. Ma certo ma lui lo dice sempre che gioca chi te lo merita chi ti dimostra chi ti dimostra chi non gioca l'allenamento. Cioè alla fine Tiago Motta ti ha dimostrato che se ti alleni bene giochi e puoi anche giocare titolare e non è che guardi in faccia i nomi però gli devi dare degli spunti per darti fiducia e c'è stato il periodo per esempio che Cabal non gli dava quegli spunti tant'è che era sparito poi Cabal ha capito e si è rimesso nelle condizioni Fagioli ha capito e si è rimesso nelle condizioni adesso siamo nel momento in cui magari qualcosa meno gli avranno dato Gatti Locatelli che stanno provando a riprendersi il posto cioè Danilo Danilo eh ragazzi mi pare i segnali da Tegumot stiano arrivando tutti quindi Mangula se oggi è uno con meno considerazione evidentemente è uno che non sta dando il 100% ma allora gli ultimi anni abbiamo visto Luzeschi Miretti fare un lavoro specifico in queste partite cioè nelle partite proprio contro l'Inter marcare il trequartista il regista eccetera secondo te la mossa di domani la mossa magari diversa da tutte queste partite se ci può essere infatti perché c'è davvero da da rimuovere tutti i ricordi degli ultimi anni ma semplicemente perché cambiando l'allenatore cambiano totalmente gli equilibri di una partita sapevamo già come affrontava questo tipo di partita Allegri contro Simone Inzaghi occhio che Inzaghi per esempio soffre tanto Tegumot tant'è che nelle sette partite giocate contro domani sarà l'ottava il duello che ha fatto più volte in Serie A Tegumot Tegumot ha vinto due volte e l'anno scorso ha pareggiato in rimonta l'Inter stava avanti e poi hanno pareggiato quindi occhio che Simone Inzaghi lo soffre tanto Tegumot e questo è un parametro che comunque è da tenere in considerazione l'altro aspetto è che secondo me domani ci sono due chiavi la prima è un qualcosa che abbiamo già visto contro la Lazio cioè il gioco che ti consente di fare Calulo che è parte da centrale difensivo ma un po' come si muoveva Calafiori nel Bologna dialogando direttamente col centravanti quindi con Vlaovic può diventare pericoloso nella metacampo avversaria ricordate quel gol che fece il Bologna contro la Juve Calafiori Zierze Calafiori lo abbiamo visto nell'occasione dell'espulsione di Romagnoli con Calulo Vlaovic Calulo se Romagnoli non fa fallo magari Calulo si presenta tu per tu col portiere e fa gol e questa è una chiave che secondo me domani vedremo tante volte l'altra chiave è più di contesto senza Cialanoglu nell'Inter a mio avviso la Juve proverà a tenere più possibile la palla e quindi un giocatore come Fagioli può fare tutta la differenza di questo mondo secondo me se gli metti accanto un altro giocatore che tiene bene la palla che può essere Locatelli è ancora meglio forse quella di domani sarebbe stata davvero la partita ideale per Douglas Luiz parlando di caratteristiche però non ce l'hai ed è inutile però Douglas Luiz doveva giocare titolare con lo Stoccard e secondo me avrebbe giocato titolare anche contro l'Inter proprio per questo tipo di concetto proprio per tenere più possibile la palla e sfruttare in base alle circostanze le due soluzioni però come scrivono in chat secondo me Fagioli può aprire tanto sugli esterni come scrivono in chat è anche vero che già l'Inter gioca molto di contropiede tanto brava a darti il pallone e poi a ripartire con la Juve che soffre tanto le squadre che magari si chiudono e poi ripartono l'Inter potrebbe andare proprio a potrebbe essere perfetto la Juve domani la Juve domani deve essere molto brava a difendere in avanti e deve essere brava a sbagliare poco nella manovra tenendo un ritmo alto secondo me la situazione è questa qua dopodiché che l'Inter abbia le sue caratteristiche benissimo però posso dirvi che l'anno scorso ricordo per esempio qui a Torino l'Inter alla fine fece gol vero ma sfruttando un errore della difesa della Juve perché nei vari ci volamenti tutti arrivarono un secondo ritardo rispetto a dove dovevano essere quindi se tu l'Inter la attacchi nella sua metà campo cioè dobbiamo capirci il possesso palla che vuole Tiago Motta non è è finalizzato non così tanto per farlo quindi secondo me secondo me può essere una bella partita domani per intenderci io non mi aspetto uno 0 a 0 io non mi aspetto una partita questo è uno dei temi una bella partita questo è quello che ha caretta ieri non dateci lo 0 a 0 adesso ha proprio chiesto di non avere uno 0 a 0 Giovanni non se lo aspetto lo 0 a 0 io non mi interessa gufare non sono scaramantico ma cioè mi aspetto una vittoria della Juve anche forse pure tranquilla secondo me però non voglio che poi nei commenti lo so già anche sul tuo canale YouTube no questo qua è pazzo ma che dici ci massacra secondo me domani possiamo fare veramente una bella partita e toglierci una bella soddisfazione poi non ti chiedo il pronostico Gio perché non lo fai non è cosa tua quindi lasciamolo fare nei commenti il pronostico partite nei commenti pronosticate divertitevi e non siete scaramanti tanto ste robe dipende ci fate come metti ah grazie Gio ci ha illuminato e ci ha illuminato più di Tiamo Motta devo essere sincero oggi quindi grazie ciao un abbraccio buona giornata ciao ciao buona giornata